Concluso il congresso di azione, ecco la nuova direzione provinciale. All'insegna della grande partecipazione dell'entusiasmo a Siracusa è stato celebrato il congresso provinciale di azione. Hanno aperto i lavori il presidente dell'Assemblea Michelangelo Gian Siracusa e il componente della commissione congressuale regionale Enzo Romeo, i quali hanno tracciato le linee del recente passato, che è stato utile a costruire una forte base democratica, radicata oggi pronta ad eleggere la propria classe dirigente e a guardare al futuro di un partito in costante crescita. Prezioso il contributo di Francesco Italia, che ha richiamato l'attenzione sulle motivazioni dell'impegno in azione, sui valori che hanno animato e continuato ad animare il cammino nel partito. I lavori congressuali hanno condotto all'elezione del segretario provinciale nella persona di Pippo Incatasciato e del presidente nella persona di Benedetta Lobbianco e del direttivo provinciale composto da Giovanni De Lorenzo, Francesco Ettaglio, Giuseppe Valenti, Michelangelo Gian Siracusa, Concetta Carbone, Vincenzo Romeo, Simona Sanfilippo, Pietro Coppa, Barbara Arvioli, Fabio Viacono, Alessandra Moschitto, Salvatore Tiralongo, Arianna Lopizzo, Luciano Bellomo, Floriana Raudino, Gabriele Vendigni, Daniel Serenari, Carmelo Di Stefano, Giuseppe Musso, Maurizio Faraci, Roberta Bongiovanni.